C'è una cosa che ti devo spiegare. Potrà sembrarti una s***a, ma è vera. Riguarda tutti noi. Tutto è iniziato molto tempo fa. Nel 1977, la Ohio State University rilevò una sequenza di 72 secondi. Il segnale è wow, scrissero. Cosa dice? Loro stanno arrivando. Loro chi? Ecco la vera domanda. Oh, ciao, tesoro. Se la vostra coscienza viene a mancare in un mondo, potrebbe continuare a esistere in un altro. Cos'è che secondo te dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci una guerra. E' il mondo come ricorderà a te. Come qualcuno che si oppose. This bitter earth No, ton sake è la ricerca della sua SMB. No, non è la tua morte. Come qualcuno che ne mette a te.